Teggiano si potrà freggiare anche del titolo di Città che Legge, questo perché ha ottenuto il riconoscimento del Centro per il Libro e la Lettura, che promuove e valorizza quelle amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura. Si tratta di un'iniziativa promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Il Centro ha l'obiettivo di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonché di promuovere il libro e la cultura italiana all'estero, proponendosi come punto di riferimento per il mondo professionale in tutte le sue diverse e molteplici componenti, luogo di incontro, di dialogo e di scambio per gli operatori pubblici e privati che, in modo quotidiano, operano nei vari ambiti della produzione, della conoscenza e della diffusione del libro. Il principale compito del Centro, coerentemente con le priorità politiche del Ministero, è quello di promuovere politiche di diffusione del libro, della cultura e degli autori italiani e di realizzare, al contempo, iniziative e campagne informative per sensibilizzare e incentivare i giovani alla lettura. Teggiano così rientra tra i comuni che hanno partecipato all'avviso per la qualifica di città che legge. Per potersi freggiare di questo titolo, i comuni devono dimostrare l'esistenza di un festival, una rassegna, una fiera in grado di mobilitare i lettori ed attivare i non lettori e, inoltre, devono possedere delle altre caratteristiche sempre in merito al libro e, considerato che Teggiano ha ottenuto il riconoscimento, ha risposto a tutte le richieste proposte dal Centro. Un'altra bella soddisfazione per il comune di Teggiano. Un'altra bella soddisfazione.